Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio fatto da TP, termometro politico, del 15 di maggio del 2021 sulla fiducia in Mario Draghi come premier. Allora, chi ha la maggioranza, il 34,9, dice di sì, abbastanza fiducia. Invece chi sì, molta fiducia, è il 17,5%. Chi dice no, poca fiducia, è il 24,8%. Chi dice no, per nulla, nessuna fiducia, è il 21,4%. Chi risponde non so, è l'1,4%. Chi ha fiducia, facciamo la somma, 30, 40, 45, 46, 52, circa il 52%, adesso non ho una calcolatrice, ma circa il 52% a fiducia in Mario Draghi. Grazie per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.